50.000 metri cubi di terra movimentata per mettere a disposizione 12.000 metri quadri di superficie utile su tre piani, dei quali i primi 4.000 a livello meno 2 sono da oggi disponibili, che per la cittadinanza vuol dire 110 posti auto di parcheggio libero nel cuore della città. Quello inaugurato oggi è un complesso ad elevata modernità impiantistica in termini di illuminazione, acque refluo e sicurezza antincendio con opzioni multiple di interventi automatici in caso di surriscaldamento, vietati comunque auto a GPL e al momento a metano. Quattro alle scale di collegamento e due ascensori, di cui uno per portatori di handicap. Presto in azione anche le telecamere, per le quali è stata già prerisposta l'intera rete impiantistica. Insieme al sindaco Stirati c'era la giunta pressoché al completo, a partire dall'assessore alle opere pubbliche Alessia Tasso, oltre a rappresentanti della Co-Progetti, è stato l'ingegner Traversini, direttore dei lavori a illustrare l'intervento nel suo complesso, e dell'impresa Monacelli Franco Costruzioni, che ha ultimato i lavori, lavori che hanno richiesto da ultimo un investimento di 1.400.000 euro. Complessivamente però lo stanziamento si aggira su 6.500.000 euro, con un finanziamento regionale di 4.500.000 euro per l'intero intervento PUC riguardante il quartiere di San Pietro, compresa la sistemazione realizzata di vie come 20 Settembre, via Dante e via Boncompagni. È stato ricordato anche come la risoluzione del lodo arbitrale sia costata al comune circa 1 milione di euro. Con l'acquisizione dell'intera proprietà, la vendita dei box farà rientrare nelle casse comunali, somme cospicue, proprio al futuro più immediato, ovvero la realizzazione di 40 box auto, dei quali 30 già opzionati, a livello zero, che partirà a breve con uno stanziamento di 900.000 euro, ipotizzandone già la previsione di altrettanti 40, guarda ora l'amministrazione comunale, che pensa però anche alla sfida per il futuro, rappresentata dal recupero dell'ex palestra e della sistemazione della facciata, compresa quella delle aree adiacenti la chiesa di San Pietro, proseguendo con un'operazione complessiva di rivitalizzazione dell'intero quartiere, del piano della mobilità e del traffico. Bisogna capire la destinazione della palestra di San Pietro, che vorremmo fosse un luogo vissuto, quotidianamente praticato, perché questa parte di città ha bisogno di essere appunto rigenerata anche sotto questo profilo e naturalmente procederemo con la realizzazione dei box e anche con la rimodulazione progettuale di questa facciata, che ha gettato sempre gli egubini un po' nello sconcerto, ma anche noi non ci è mai piaciuta, l'abbiamo ereditata così, quindi come minimo la riprogetteremo e la rimoduleremo. Se ci saranno le condizioni tecnico-operative, faremo anche qualcosa di più significativo, nel senso che potremmo anche abbassare questo impatto per renderlo più compatibile.